Ciao a tutti pubblico youtube Questa settimana è uscito La macchina di Topolino La prima uscita che troverete Io ne dico la presa di 2,30€ Ok Apriamo il giornalino Ecco ancora io Sto aspettato di fare il video per aprirlo Ecco Il numero è 2902 Ecco Non so quello che ci sia Nella scatola quindi Non ve la prendete se sbaglio qualcosa Perché lo so prendere la prima volta Ok questo qua è il fumetto Davvero diverso E qui in mezzo cosa troviamo? Wow delle cartine di Max Avengers Tu l'hai del gelato Wow non lo sapevo Ok ma andiamo avanti E in tutto Qui nelle pagine possiamo vedere la macchina Ecco Tutta la macchina completa Niente Qui poi svegliendo le pagine Non so cosa ci sia Comunque ci saranno 5 storie Di cui una di Topolino è la sua macchina Vabbè qui un voglietto per un abbonamento Qui possiamo ritirare un regalo speciale ma a me non mi interessa Apriamo la ancora E qui Cosa c'è Allora troviamo I preabresi e la macchina Le due pinze Topolino E una metà della macchina Poi Prendiamo la scatola E niente Qui possiamo vedere un bel immaginale della macchina E niente Qui dietro possiamo vedere la macchina scompletata E qui Guscio correzzato Che poi infatti i plastiche si distruggerà subito Sparadiscchi energetici Vabbè Pinze Apri pinze Sicuramente sono tutte trovate pubblicitarie Va bene ragazzi E niente Questo video è finito Ciao e grazie per la visione